Il 2019 del Teatro Traetta si chiude con una affascinante serata di moda, la Christmas Fashion Night, targata Giulio Lovero, stilista bitontino che ha presentato alcune sue creazioni messe in passerella. Le modelle sono state esaltate nella bellezza grazie al make-up di Alessandra Centrone e alle acconciature di Maria Altomare. Ad incorniciare la serata ci hanno pensato i Divini, la talentuosa Tribal Band del Volo. L'evento, patrocinato dal Comune di Bitonto e dalla Camera della Moda della Puglia, è stato organizzato da Carmen Martorana Eventi. Devo dire, sono felicissima, ormai per me Bitonto è diventata casa, casa artistica e sono felicissima perché riesco a mettere insieme quello che è il nostro patrimonio artistico-culturale perché siamo veramente in un gioiello della vostra città che è il Teatro Traetta, con l'alta moda e anche con la musica di alto livello perché per quanto riguarda l'alta moda abbiamo Giulio Lovero, l'Atelier Miss and Lady, che veramente sfilerà degli abiti spettacolari, anche molto scenici. Giulio ha tenuto conto del luogo in cui siamo, quindi sono abiti veramente teatrali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.